Come ogni anno in questo periodo la comunità parrocchiale Sant'Antonio di Padova di Gela promuove la celebrazione della giornata missionaria mondiale giunta alla novantesima edizione al fine di richiamare tutti i fedeli al senso di responsabilità che bisogna nutrire verso i fratelli più deboli e fragili. Lo slogan scelto dall'organismo pastorale della CEI è nel nome della misericordia. Misericordia è una parola che negli ultimi tempi sottolinea la comunità parrocchiale abbiamo sentito e riferito anche se è sempre stata usata e pronunciata nella Chiesa. La differenza è che oggi più che mai grazie alla lettura del mondo attuale fatta da Papa Francesco essa è e deve sempre più diventare la cifra per dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni. Il 2016 è un anno particolare per le comunità e considerato che nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II Papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa tutta un anno santo della misericordia perché la Chiesa possa rendere più visibile la sua missione cioè l'impegno di vivere usando la medicina della misericordia piuttosto che imbracciare le armi del rigore. Anche quest'anno la parrocchia di Sant'Antonio sarà impegnata in modo particolare a sostenere i missionari servi dei poveri del Terzo Mondo fondati nel 1986 dal gelese padre Giovanni Salerno e oggi impegnato non solo in Perù ma anche a Cuba, Messico e Ungheria. Il sostegno si è sempre concretizzato con l'eruzione di stanza di bambini orfani o che vivono in famiglie disagiate a cui viene data la possibilità non solo di studiare e costruirsi un futuro ma di formare dei cristiani che poi saranno a loro volta il seme che permetterà la trasmissione dei valori evangelici alle generazioni future. L'ottobre missionario si articolerà durante le cinque settimane in altrettanti momenti di riflessione, contemplazione, vocazione, annuncio, carità e ringraziamento. Domenica 23 ottobre alle 18 la comunità parrocchiale parteciperà alla celebrazione della messa da parte di uno dei missionari, padre Valtre Corsini, che tornerà ad archire con la sua esperienza e aggiornerà sui progressi realizzati nei vari paesi in cui sono impegnati. Chi vorrà avere maggiori informazioni sul movimento Servi dei Poveri del Terzo Mondo, sulle opere che hanno realizzato, sul modo di poterlo sostenere e sulle adozioni di stanza, si può rivolgere ai componenti del gruppo missionario della parrocchia Sant'Antonio, sempre presenti con un banco fuori dalla chiesa tutte le prime domeniche di ogni mese. C'è anche un recapito telefonico 0933 93 0951.